ciao a tutti per questa domenica prepariamo insieme le zucchine ripiene ecco gli ingredienti 4 zucchine genovesi una cipolla uno spicchio d'aglio 70 grammi di grano grattugiato un po di mollica bianca un po di pastate di pomodoro olio sale per prima cosa tagliamo le zucchine a metà e le sfondiamo con il cucchiaio le sfondiamo in una teglia di zucchine e le condiamo con sale e l'olio poi la parte interna delle zucchine la tagliamo a pezzettini adesso prepariamo il condimento in una padella facciamo soffriggere la cipolla con un filo d'olio dopo che sarà rosolata aggiungiamo la parte interna della zucchina che abbiamo appena tritato dopo qualche minuto di cottura aggiungiamo il grano padano e l'aglio tritato e lo facciamo cuocere per qualche altro minuto al condimento aggiungiamo la mollica di pane la pastate di pomodoro e aggiustiamo con sale e pepe aggiungiamo le zucchine con il condimento e inforniamo a 180 gradi per circa mezz'ora ed ecco qua le nostre zucchine ripieni sono pronte alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti